Johnny! Oh, dovevamo fargli fare la salita! La salita! Johnny! Eh, adesso candela nuova, vai! Vieni, vieni, vieni! Vieni a fare la salita! Andiamo a fare la salita che hanno fatto loro! Andiamo a fare la salita! Hanno fatto una salita del cacchio! Vai, dai, dai! Vieni, vieni! Ho cambiato la candela e ho gasato, è una bestia! Eh, devi provare anche lui, eh! Scusa, eh! Guardi da sotto! Ciappalo! Eh, ma non ha visto o non vuole farlo? Meglio! Tanto lui, pensi che ci... A zero! Se non c'era troppo era zero! La prima volta è andato a scendere! Via, via! Vai a fare... Vai a casa! Gli hai sputtanati tutti! A uno! E che non hai esagerato, se no saltava via, cazzo! Tu hai vinto il... Eh, perché hai preso il tronco! Hai vinto il premio! Via, tu! Aspetta, arrivi! Ah, ma... weat! Ah, ah, ah! Ah, ah! Eh, ah, ah! Ah, ah... Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ahah! Ma lui non se n'è mica accorto, era troppo concentrato, ma prima non c'era, sentiva l'alito. Il mezzo è riparo. E' fatta bene. Sto distratto con la cosa in mezzo ai maroni. Non c'era l'alito. Guardi eh. Si vuole. Devi imparare, vai. Perché come la fai tu di solito sei lento, ma qua ti scivola al dietro. Appena hai fatto per andare non ti ha attaccato, ti scivola via. Quindi questo lo devi fare un po' più veloce, per forza. Sei obbligato a farlo veloce. Vedi, si nasconde, cazzo. Ma facciamo 7 dai, 7, 3, 2, 1, vai. Vedi. 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 Secondo, se Opa ciuccio, sei spaventato. Grazie.